...i suoi stessi soci a conferirvi il premio, i suoi giovani soci di Guadiano noi lo ringraziamo perché attraverso Angelo Maggi è ripreso il mercato dell'Uva e sono ripresi i pagamenti dell'Uva lui ha cominciato a evitare i costi del prodotto e raccoglie gran parte del prodotto di Guadiano per cui io mi sono veramente grado al nuovo e prodotto di Guadiano grazie ad Angelo Maggi, consegnano il premio il premio lo consegna questa splendida facciulla ma simbolicamente tutti i soci prego premio speciale